Gentilissimi, bentrovati. Settore energetico sotto i riflettori dopo l'annuncio di Putin che prevede il pagamento esclusivamente in rubli agli stati nemici. Così i paesi europei si stanno mettendo in moto per soluzioni alternative sull'approvvigionamento del gas. In calendario oggi il vertice Nato e il Consiglio europeo. A Piazza Affari il nostro Fuzzimib registra un più 0,42%. A metà pomeriggio aveva toccato un massimo in aria 24.600. Rallenta sul finale chiudendo sui 24.400 ma come vediamo dal grafico è rimasto per lo più in territorio favorevole. Più scarso è il risultato del DAX che rispetto al Fuzzimib rimane per lo più in territorio negativo e termina poco distante dal livello di chiusura di ieri sotto i 14.300. Negli Stati Uniti l'indice PMI manifatturiero è in crescita nel mese di marzo rispetto a febbraio. Rialzo anche l'indice dei servizi. Tali risultati fanno risalire gli indici già in questa prima fase di contrattazione. Il Nasdaq sta viaggiando sopra i 14.000 con un progresso che si avvicina al punto percentuale mentre il Dow Jones ha superato il mezzo punto di progresso. Sugli scudi Borsa Italiana Telecom con un balzo del più 8,40%. Secondo alcuni rumor il fondo KKR ha confermato l'impianto dell'offerta di novembre del gruppo telefonico. Continuano gli acquisti su Unipol con il suo rally iniziato il 7 marzo. Oggi il titolo assicurativo mette a segno oltre al 4%, avvicinandosi ai 5 punti. Spiccano i rialzi di alcune utility legati alle materie prime, in primi Sterna e Snam, che si posizionano a ridosso dei due punti e mezzo di guadagno. STM si aggiudica a due punti di progresso. Tra gli industriali invece cede terreno Interpump che si posiziona in coda al Fuzzi Mib con un calo superiore al meno 3%. Dello stesso settore vendite su Exor meno 2,03% e Pirelli meno 1,65%. Tra i peggiori troviamo anche Saipem ed Azimut. Dal mercato valutario si indebolisce sensibilmente l'euro sul dollaro americano che attualmente quota 1,09%. In evidenza il balzo dell'euro sulla divisa nipponica su nuovi massimi storici a quota 134, stabile il cross, euro sterlina a 0,83%. Ed ora la linea a Carlo Vallotto e dall'analisi grafica del gas natural. Per le interviste di Traderlink, ospite di oggi Carlo Vallotto, commodity trader, per dare uno sguardo al natural gas e alle ultime evoluzioni per quanto lo riguarda. Lascia a te parole e considerazioni. Grazie Rossana. Sì, proprio nella giornata di oggi abbiamo sentito insomma come il settore del natural gas e il settore dell'energia è un po' sotto sopra. La Russia ha chiesto il pagamento in ruble, però come vediamo dal grafico il gas naturale non ha avuto dei grossi impatti. Putin sta cercando di salvare insomma in qualche modo le forniture le forniture di gas all'Europa e ha chiesto appunto per anche un po' per rinpinguare, per rinforzare il rubro russo, ha chiesto all'Europa appunto il pagamento delle forniture appunto in rubli. Quindi è anche necessario ritrovare insomma un approvvigionamento piuttosto importante del rubro russo perché naturalmente il gas sono molti gli afflussi. Tra le altre cose c'è anche abbastanza fermento da questo punto di vista sempre in Europa perché molti paesi stanno cercando, tra cui la Germania e l'Italia, insomma un po' tutti i paesi stanno cercando di oltre a trovare delle soluzioni per i grossi costi energetici naturalmente anche degli altri approvvigionamenti, diversificare gli approvvigionamenti. Ci vorrà tempo naturalmente perché bisognerà naturalmente tutto questo avrà una contrattualistica da insomma da firmare, da portare a termine. In tutto questo chi è che trae un po' vantaggio? Trae vantaggio il gas naturale che è il prodotto dell'America che dovrebbe essere in qualche modo venduto anche all'Europa, il gas naturale liquido. In questo momento i prezzi del finanziario, del natural gas insomma finanziario, sembrano essersi un po' rinforzati, non tanto, sono due mercati un po' diversi, quello europeo da quello che vediamo siamo abituati a visionare noi. Quindi ecco attenzione ai prezzi che sono risaliti nuovamente al di sopra della media mobile 200 periodi che prima quotava sotto la zona dei 4 dollari, adesso è 4,50 dollari per milione di unità termiche britanniche e tecnicamente siamo assaliti sopra il livello chiave dei 5 dollari. Quindi ecco ancora un rafforzamento, naturalmente siamo lontani dai prezzi, siamo circa 1,2 dollari, 1,3 dollari dai prezzi massimi raggiunti lo scorso ottobre, tendenzialmente ciclicamente i prezzi del gas in questo momento non dovrebbero rafforzarsi, però è d'obbligo il condizionale perché con la situazione di difficoltà di riperimento di tutto l'intero sistema delle materie prime, anche di cui appunto fa parte il natural gas, potrebbe ecco inficiare quella che è la situazione, l'analisi storica della ciclicità del natural gas che normalmente in questo periodo tende ad essere un po' più tranquillo diciamo così. Quindi attenzione ai prezzi sopra la zona dei 5 dollari che è un livello estremamente importante, lo vediamo prima resistenza, oggi supporto, quindi grande attenzione a questa tendenza che potrebbe insomma continuare al rialzo. Perfetto Carlo, io ti ringrazio per le previsioni e gli spunti operativi e con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi, un saluto e buona continuazione. Grazie a Carlo e Rossana, per essere sempre aggiornati sui contenuti seguiteci sul nostro canale YouTube di Traderlink sulla nostra app e su Traderlink Cloud. Grazie per l'attenzione e arrivederci a domani.